Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, sono le 7.04, quasi in anticipo oggi rispetto al solito, qualche minuto in più, bene bene bene, sono contento, chissà come vi trovo arrivando due minuti prima a casa vostra, sai quando tu dici, oh ragazzi ci si vede alle 7.10, 7.15, 8.30 massimo, invece uno arriva alle 7.00-5, cose del genere, e tu dici, ma no, sono ancora qui i capelli da fare, sono ancora qui in pigiama, sono ancora qui, che non ho ancora messo sull'acqua a bollire per la pasta, cioè, eh, però vedi, se arrivi in ritardo mi dai sulle parole, eh, se arrivi presto, eh, come va, buongiorno a tutti quindi, un po' in antissimo ma sempre qui per raccontarvi un po' tutto quello che succede a Milano, io sono Fabio Ranfi, questo è Good Morning Milano e state ascoltando Crystal Radio, iniziamo la mattinata, noi l'apriamo proprio, arriviamo con le chiavi, strong, 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 apriamo il cancellone di Crystal Radio, poi dopo di noi entrano tutti gli altri che vanno avanti fino alla sera a fare le produzioni, a fare le nostre trasmissioni, per raccontarvi la città di Milano, perché come dice tutto il nostro claim, ogni tre per due, sentite, no, che ve lo racconta, è Crystal Radio, Milano, si sente, e io voglio sentire voi invece al 331-7853-555, il nostro numero di Whatsapp a cui potete scriverci, ma mandarci anche le foto, eh, i video, le colazioni, vi ricordo che io ho questa abilità completamente inutile di saper leggere i fondi del caffè, inventandomi quello che vedo, quindi, insomma, se volete, eh, così, posso interpretare completamente senza nessun studio dietro, eh, ma tanto, vabbè, insomma, c'è da studiare per leggere i fondi del caffè, non lo so, vabbè, ditemelo dopo, dai, 331-7853-555, buongiorno! Mr. Rain, Clara, ultima notte con te, 708, siamo qui a raccontarvi un po' tutto quello che succede nell'oggi, nella giornata di lunedì 15 gennaio, e per partire, per capire quello che succede nell'oggi, bisogna partire a capire che è successo nell'ieri, no, o meglio, non tanto nell'ieri, ma nel passato, o meglio, nell'oggi, oggi, x anni fa. Allora, prima cosa, una notizia particolare che ho trovato, cioè, un caso in realtà, pensate, nel 2001 inizia l'era di Wikipedia, e si è fondato, 23 anni fa, oggi, il primo messaggio su Wikipedia, Hello World, questo è il saluto che accoglie i primi visitatori del sito wikipedia.org. Wikipedia, che, insomma, ci sta, ci informa, ci dà la nozione, la cultura, ci dà le informazioni che ci interessano, un po' la nostra enciclopedia moderna, ma pensate, nel 1945, invece, nel 1945, proprio oggi, viene fondata, invece, l'agenzia ANSA, quella, invece, un po' più, diciamo, la Wikipedia, un po' più autorevole di quello che, insomma, dovrebbe essere proprio la nostra fonte di informazioni principali, no, le agenzie di stampa, quelle che poi noi ogni tanto riusciamo a leggervi, anche sbagliandole, quelle che ogni tanto arrivano sbagliate, ma, insomma, sappiamo quanto è caotico il momento dell'informazione in questa epoca. La cosa di fatto che, insomma, lo stesso giorno nascono l'agenzia ANSA e Wikipedia, una cosa abbastanza particolare, ma, soprattutto, oggi è il giorno di un, nasce, nasce oggi, un personaggio storico, che adesso ci ha lasciato anche troppo presto, oserei dire, 95 anni fa nasceva lui, sentite, chi? Eh sì, lui aveva un sogno, eh sì, lui è Martin Luther King, nasceva oggi, ben 95 anni fa, il reverendo Martin Luther King Jr., questo era il suo nome, tanti altri, Martin Luther King Jr., no, nato come Michael, pensate, lui in realtà nasce come Michael King, nasce, appunto, il 15 gennaio 1929 e, sappiamo tutti, muore tremendamente con un colpo d'arma da fuoco a Memphis il 4 aprile del 68 e, allora, un doveroso ricordo, appunto, oggi, nel giorno della nascita, 95 anni fa, appunto, di Martin Luther King. Ho voluto farvi ascoltare, beh, quello era il famosissimo, famosissimo discorso a Washington del I Have a Dream, no, quando, appunto, fece questa bellissima, fantastica marcia su Washington per i diritti delle persone di colore e lui tenne questo discorso che fece veramente, veramente la, la storia. Questo è l'almanacco di oggi, ripeto, 95 anni fa nasceva Martin Luther King e quindi, ricordiamolo, ricordiamolo oggi, ricordiamolo, anzi, forse, un po' troppo spesso, dovremmo ricordarlo sempre, sempre. Andiamo avanti con la musica, invece, perché adesso è il momento di David Getz, David Getta insieme ad Ozuna con Vocation, o meglio, Ozuna insieme a David Getta, oppure David Getta insieme ad Ozuna. Guarda, ormai questa cosa che nessuno più fa le canzoni da solo è sempre un dramma, è sempre un dramma. Ozuna insieme a David Getta, Vocation e bentornati a Good Money Milano e iniziamo dopo la prima parte dell'almanacco e dopo aver dato le coordinate che, vi ripeto, sono al 3317853555, il nostro numero di Whatsapp, appunto, vi dico, scriveteci, raccontateci cosa state facendo, grazie, come sempre, di farmi entrare nella vostra routine, ma insomma, adesso inizio anche a darvi qualche informazione, così leggiamo un po' di giornali. La Repubblica fa un articolo molto interessante che ho voluto approfondire e iniziare subito con questa notizia, che parla dell'e-commerce e l'assedio dei capannoni e allarme per il consumo di suolo. Pensate che a Milano c'è il 30% di tutta la logistica italiana, nella provincia di Milano, la città metropolitana di Milano c'è il 30% della logistica di tutta la logistica italiana. Per logistica cosa si intende? Sono quei capannoni dove viene stipata la roba che voi ordinate su internet, ho detto male, ok? Voi fate un ordine, ecco, gli acquisti che voi volete fare su internet, nell'e-commerce e così, vengono da qualche parte immagazzinati, no? E sono questi, sono immensi magazzini, come dico, immensi, se voi guardate dall'alto con Google Maps o Google Earth, cioè veramente delle robe abnormi, abnormi, ma poi si vedono anche, spesso si passa sulle tangenziali, sull'autostrada, sulle statali, ci sono zone dove rotonde nel deserto sembrano, e poi vi accorgete, ci sono dei capannoni, perché le rotonde, perché i camions non riescono a fare le manovre fatte bene. Sa di fatto che è un po' allarme, perché appunto c'è un consumo di suolo altissimo. Costruire sulle aree dismesse, ad esempio sugli ex capannoni industriali, costa troppo, così dicono, e quindi le aziende preferiscono i terreni liberi, ma questi terreni liberi cosa sono? Sono terreni agricoli, quasi sempre, o comunque terreni verdi, terreni permeabili, ricordiamo sempre, ve lo raccontiamo spesso, di quanto è importante avere questi terreni che facciano andare l'acqua sotto, giù, sotto, 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 sotto nel sottosuolo, nella falda, che facciano rientrare l'acqua sotto, perché se no poi ci ritroviamo con gli allagamenti, ci ritroviamo con tutto quello che sappiamo, e chi vive ad esempio lungo il Seveso o lungo l'Ambro sa bene di cosa stiamo parlando. Milioni di metri quadrati di capannoni e magazzini di stoccaggio che, spinti dall'exploit del commercio online, stanno cambiando i paesaggi suburbani. Ne avrete visti tranquillamente, verso l'Odigiano, verso l'Ovest milanese, per non parlare poi dell'intera catena di cemento che collega Milano a Bergamo. Ok, ecco, quello della logistica è un sentore immobiliare, attenzione, in espansione, cioè non siamo ancora arrivati al massimo, è ancora in espansione. Un mercato che porta sviluppo, a detta degli investitori e dei comuni, che ne ospitano i magazzini appunto, ma che, se non governato, fa lievitare il consumo di suolo. E sappiamo quanto la Lombardia è una delle aree più cementificate d'Europa. Quindi, attenzione, abbiamo l'area più cementificata d'Europa, abbiamo il 30% di tutta la logistica italiana che risiede nella provincia di Milano. Insomma, forse qui starei un attimino a controllare bene come fare. Ma la domanda principale è, siamo disposti a non ricevere entro 24 ore il mouse che abbiamo ordinato su uno di quegli siti lì? O il frullatore ad immersione? Lo vogliamo entro 24 ore? Siamo pronti a dire no, va bene, dai, posso aspettare 5-6 giorni? Questa è la domanda. E questa domanda si riflette anche sul traffico, sul fatto di che a Milano c'è tanto traffico, ma la maggior parte del traffico che vediamo sono furgoni, furgoni che portano pacchi da una parte all'altra. Perché? Perché li vogliamo, vogliamo tutto e subito. È una comodità? Certamente. È una grandissima figata? Certamente dal punto di vista di quando puoi utilizzare i tuoi prodotti. Però quanti problemi porta? Lo sentiamo anche adesso in diretta da Luce Verde per sapere com'è la situazione nel traffico. In questo momento, a Milano. Live is life, gli opus, 7 e 23 minuti. Questa canzone sarebbe perfetta per l'articolo che sono da leggere, perché inizia l'articolo raccontando un po', no? Quando, pensate, in una delle primissime frasi dice l'era del cinghiale bianco di Battiato, in testa alle classifiche, è finita da un pezzo. Adesso è il turno di Simbala Rue. Allora, facciamo un passo indietro. Repubblica Milano, titolo. Il trapper Simbala Rue conquista le classifiche dopo coltellate, pistole e condanne vere. Così lo stile gangsta è diventato business anche in Italia. L'esordio del suo primo album ha registrato i 40 milioni di ascolti su Spotify nella prima settimana. L'antropologo Grassi dice La trap vince perché è provocazione. Ma su questo, insomma, signor antropologo Grassi, grazie però, tutta la musica ha sempre vinto perché era provocazione quando era rock, quando era il rap, quando adesso è la trap. Inizio l'articolo raccontando, cioè raccontando, mettendo il testo di una canzone di Simba. Mamma guardami, spendo 5.000 euro per outfit, voglio tanti Audi 4x4, voglio tante, c'è l'italiano comunque, Audi 4x4 con tanti cavalli, guido senza patente, cazzo mi frega, tagli in faccia son più bello di prima, voglio un milli, un milione significa, o torno a fare rapine. Ok, questo è, diciamo, l'intro. Io che ho ascoltato il gangsta rap, quello vero, degli anni 90, americano della West Coast e della East Coast, ecco, i testi non erano proprio, voglio il milli, vado forse noto a fare le rapine, comunque vabbè, era un gangsta un po' diverso. Stati fatto che dice poi, appunto, questa frase, l'era del cinghiale bianco dibattiato in testa delle classifiche è finita da un pezzo, adesso il turno, di Simba Laru, il cantore, poi dice, si fa per dire, delle banlio di Milano ed intorni, già al centro di faide tra bande e protagonista di un variegato campionario di colpi di testa tra accoltelamenti subiti e sparatorie. Ecco, questo è l'articolo migliore per fare pubblicità a un cantante che fa queste cose, nel senso che chiamarlo il cantore delle banlio di Milano, quando le banlio di Milano non esistono, perché attenzione, le banlio sono una cosa francese che nasce da un certo tipo di humus, diciamo, culturale e non solo, che qui non c'è, per fortuna, per fortuna, non lo so, ma è diverso, ok? Vi ricordo uno studio che abbiamo visto qualche mese fa, che dice che a Milano, ad esempio, non esistono quartieri divisi etnicamente con etnie che la fanno da padrona, diciamo, in un certo senso. Poi è ovvio che ci sono più arabi da una parte, più magrebini, anzi, ma che va anche lì diversi, non so, più tunisini da una parte, più al genio dall'altra, quello è ovvio, ma non si dividono, non si divide la gente perché vado a vivere lì o là, perché è in base a quello, no, ahimè, a Milano ci si divide, si decide di andare a vivere perché non ho i soldi per vivere da una parte o dall'altra, quindi diciamo che è una divisione solo economica. Sta di fatto che, appunto, vogliono creare un fenomeno che non è proprio probabilmente uguale, che viene scimmiotta quello delle banlio francesi, perché sicuramente questi trapper utilizzano un po' quello stile, ma se noi li legittimiamo e continuiamo a raccontarli come fossero quelli dei banlio francesi o peggio ancora, come se fossero quelli di West Hollywood giù o di Compton negli Stati Uniti, insomma, ecco, non è proprio la stessa cosa. Tupac era una cosa e non è finito bene, tra parentesi, e non va neanche usannato per quello, però comunque era una cosa. Simbala Rua e tutto il resto è un'altra cosa. E dopodiché posso anche dire, è la musica che vogliono i ragazzi adesso e quindi perché sempre andarci contro, perché sempre dover fare le paternali, e ve lo dice uno che, insomma, le paternali a volte ne fa anche fin troppe. Rcomi, ossa rotte, 7 e 31 minuti, la prima mezz'ora è andata già via, ma noi siamo già pronti a fare la seconda mezz'ora di trasmissione. Oggi è lunedì, anzi, non è lunedì a caso, perché oggi è il Blue Monday, lo sapete? Eh sì, è il giorno più triste dell'anno, così viene detto, perché è definito da tutto un algoritmo, che poi dopo magari se ho tempo ve lo vado a riprendere, ve lo vado a rileggere, del perché è stato deciso che il terzo lunedì di gennaio è il Blue Monday. Sai di fatto che in teoria oggi siamo legittimati a essere tristi, diciamo un po' così, no? Possiamo viverci la nostra tristezza senza sensi di colpa, dovremmo farlo sempre in realtà, sarebbe meglio farlo sempre. Ma oggi, un po' più del solito, possiamo essere quindi un po' blue, un po' oggi avverrà, quindi mi raccomando ragazzi, non abbiate troppe aspettative sulla giornata, ecco, cioè cerchiamo di fly down, di volare basso, no? Lunedì 15 gennaio è appunto il Blue Monday, però è un giorno di lavoro, lo sapete, no? Cioè si inizia a lavorare di lunedì, o meglio non è vero, c'è gente che fa i turni anche, però diciamo che lunedì non lo utilizziamo come giorno principe per dare il vio alla settimana lavorativa e allora c'è sempre lui lunedì, c'è sempre Filippo Poletti, top voice di LinkedIn, che ci dà una visione positiva del lavoro, anzi forse oggi è ancora meglio averlo perché appunto nel Blue Monday il buon lavoro di Filippo Poletti è fondamentale. Il buon lavoro è quello che lui fa tutti i lunedì con questa rubrica con noi dove ci dà le notizie migliori sul mondo del lavoro e il buon lavoro è quello che fa invece tutti i giorni su LinkedIn raccontando il mondo del lavoro, mondo del lavoro che è sempre molto bistrattato, insomma non è facile raccontarlo, invece noi abbiamo colui che ne sa parlare molto bene appunto Filippo Poletti e quindi buon lavoro Filippo e dai dacci le notizie di oggi, sentiamo un po' che cosa ci racconti. Buon lavoro a tutti, la prima parola chiave della settimana è empatia. Il successo di un'azienda ha autenticità ed empatia nelle relazioni, lo dice uno studio condotto su un campione di oltre 6.000 professionisti da parte della società milanese Hacking Talents. Questo è quello che dice la CEO Federica Pasini. Lavorare in un contesto caratterizzato da relazioni positive, comunicazione chiara e possibilità di crescita sia dal punto di vista professionale che personale è un fattore imprescindibile anche per la cosiddetta retention dei talenti. Avanti tutta dunque con l'empatia anche nel 2024. La seconda parola chiave della settimana è smart working al 100%. Lo prevede open fiber in caso di familiari da accudire. Interessante all'interno dell'accordo anche il conteggio bimestrale dei giorni di lavoro da remoto. Esigenze diverse dunque, organizzazione diversa del lavoro. La terza e ultima parola chiave della settimana è settimana corta. Non è un gioco di parole. Accade a Magister Group con sede a Milano e in altre città d'Italia. Non è importante quanto una persona trascorre in ufficio, quanto piuttosto il raggiungimento degli obiettivi. Lo racconta la CEO Simona Lombardi. Dall'introduzione della settimana corta in Magister Group lo scorso febbraio sono aumentate la produttività, la marginalità e l'attrattività del gruppo e per il 2024 è previsto un aumento di organico dell'8%. Esperimento interessante da seguire. Buon lavoro a tutti! In New Order con Blue Monday, perché oggi è il Blue Monday, il 15 gennaio è il Blue Monday. Pensate, nasce nel 2005 questa idea da uno psicologo Cliff Arnold, secondo cui, secondo Cliff, dice che il terzo lunedì gennaio sarebbe il più triste dell'anno. Perché? Beh, una serie di elementi. Prima di tutto il meteo, quasi sempre, non è che si sta, invece, fa caldo, quasi tutto il mondo, nel mondo nostro, qua sopra, fa abbastanza freddo. Quindi offre spesso giornate di brutto tempo e anche corte, tra parentesi. E poi, un'altra cosa a cui non avevo fatto riferimento, ma che è il fatto di uscire dalle feste. Quindi dall'euforia delle feste, l'euforia viene a calare, ma soprattutto la passività finanziaria. Cioè, siamo senza soldi, perché li abbiamo sperperati durante le feste. E quindi ecco il perché del Blue Monday, il terzo lunedì di ogni gennaio, no? Il 15 gennaio, appunto, in questo caso, quest'anno. Così, a naso il prossimo 17, credo, non so, non sono bravo a fare i conti. Comunque, è passato un weekend, un weekend... Ah, io sono andato a vedere l'Olimpia Milano, bellissimo, ringrazio anzi l'Olimpia per l'ottimo risultato. Mi ha vinto di un punto, all'ultimo secondo, vai. Comunque, ma invece sabato era il momento del concerto di Massimo Pericolo. E sapete che la nostra Viola era in pole position per andare al concerto di Massimo Pericolo, la nostra Viola, la nostra producer di Good Morning Milano. Viola, com'è andato il concerto? Allora, intanto, ciao a tutti, buongiorno. No, al concerto non ci sono andata alla fine. Ma come non ci sei andata? No, non ci sono andata perché... No, abbiamo migliaia di ascoltatori che aspettavano il tuo... Eh, lo so, mi dispiace deludere tutti, ma purtroppo, come avevo detto, dovevo... Scroccare? Sì, esatto. Ecco. Però questo mio amico che lavora lì con l'impalcatura, organizza, non li ha trovati. Con l'impalcatura, cioè i palchi per lì sono fatti di impalcatura, vabbè, ok? Sì, sì, vabbè, comunque. Non li ha trovati. Ah, e quindi niente? Quindi non ci sono andata, però deve essere stato un concerto bellissimo. Così sono affidruccia. No, vi sono un sacco di video, un sacco di ospiti. Chi c'era? Gli ospiti che conosco, vuol dire non mi ha caso. Edua? Ah, no, questo so chi è. Emi Schill. Ah, no, no, li conosco, cavolo. Sì, sì, sì. Ah, bravo, bravo, bravo. Eh, no, bravo. E quindi non l'abbiamo visto. Niente, quindi tutti voi che eravate in ascolto, che stavate aspettando il resoconto di Viola sul concerto di sabato di Massimo Pericolo, niente, guarda, è arrivato un WhatsApp in questo istante, adesso lo vado a prendere, è arrivato un WhatsApp proprio in questo istante da Marilena che dice, no, Viola, ma come? Noi aspettavamo questo momento. Ecco, c'è scritto Marilena al 3317853555. Anzi, saluto anche Alberto che c'è scritto anche lui. Buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini, riavvolgiamo il nastro e cominciamo questa nuova settimana. A me piace sempre perché Alberto è puritico nei suoi messaggi, ma soprattutto scrive questa mattina ho particolarmente sonno. A chi lo dici, caro Alberto, visto che adesso ho controllato e questo messaggio ti avrebbe dato mezz'ora fa e io l'ho letto adesso, quindi pensa a quanto lo sono attormentato anch'io. Comunque, niente, Marilena, invece Viola ci ha deluso così? No, povera Viola, dai, cioè, non è colpa sua. Perdonatemi, mi prego. Non è colpa sua. Non avrei voluto tanto andare. Tu direi, prossima volta, Cristall Radio, datemi i biglietti per andare, è giusto. Eh, esatto, esatto. Ecco, infatti, no, io non c'entro niente, no, vale. Proveremo, troveremo il modo di far andare la povera Viola a un concerto, adesso troviamo qualcuno di sfigato, no, scherzo. Va bene, comunque, grazie Viola del resoconto del tuo concerto e quindi adesso andiamo avanti giustamente con la musica e chi, se non appunto, Massimo Pericolo con Le cose cambiano. Massimo Pericolo, le cose cambiano, cambiano infatti le cose, tant'è che Viola doveva andare a cercare il concerto e alla fine non c'è andata, quindi le cose cambiano. Concerto, appunto, che sia stato sabato al Forum da Sago di Massimo Pericolo, invece un altro importante happening, avvenimento, spettacolo, chiamato come volete questa sera, invece, al Teatro degli Arcimboldi, perché Vincenzo Mollica va a teatro. Eh sì, storie di una vita piena, i miei ricordi oltre i colori. Lo spettacolo ha un interessante titolo perché si chiama L'arte di non vedere. In realtà lui gioca, Mollica veramente ha un'autoironia pazzesca. Mollica ormai è praticamente, Vincenzo Mollica è praticamente quasi cieco completamente e gioca su questa cosa qua. Cioè pensate all'autoironia di un grande maestro come appunto è Vincenzo Mollica. Tra aneddoti ed aforismi il giornalista ripercorrerà i personaggi e gli artisti incontrati in questi 40 anni di carriera. Pensate da Dario Fo, ad Adriano Celentano, da Alda Merini fino a Giorgio, a Giorgio Gaber. E Mollica dice che qualche editore mi ha chiesto di scrivere la mia autobiografia ma non lo farò mai. Ne vedo troppe in cui ognuno si aggiusta il passato. Io invece voglio lasciarlo così com'è. Ed è così che appunto Vincenzo Mollica racconterà questa sera appunto sul palco del Teatro degli Arcimboldi dalle 21 appunto questa sera in questo spettacolo bellissimo che si chiama L'arte di non vedere veramente tanto tanto hype, come dite voi? Hype, sì ecco hype, ok. Tanta tanta attenzione per un grande giornalista, un grande professionista e quindi se questa sera non sapete dove andare oppure se questa sera volete davvero nutrirvi e nutrire il vostro animo, il vostro spirito e la vostra mente andate al Teatro Arcimboldi di Milano alle ore 21 con Vincenzo Mollica, L'arte di non vedere. C'è un altro modo anche però per acculturarsi molto più facilmente e guardate siete già nel posto giusto. No, non è ascoltando me, ma è rimanendo sintonizzati su Cristal Radio dopo di noi. Perché? Perché dopo di noi tutti i giorni vai in onda senti questa con Ambrogio Curti. Ma io adesso ho chiamato l'Ambrogio e tu sei l'Ambrogio, però io ve lo sapete. Visto che vai dopo di me e poi a volte mi perdo l'inizio perché non so, finisco qua, faccio colazione, mi perdo un attimino. Dimmi un po' cosa succede questa settimana nella tua senti questa e allora tutti lunedì, da oggi iniziamo questa collaborazione con Ambrogio Curti perché tutti lunedì a quest'ora Ambrogio ci dà qualche anticipazione sulla settimana di senti questa ma soprattutto poi ci regala un brano, un brano di quelli che lui sa raccontarti e spiegarti anche molto bene. E allora linea a te Ambrogio e cos'è che c'è questa settimana senti questa? Wow, Mr. Sandman, ma avete sentito che roba, questa è la grandezza di Ambrogio Curti che ci dà delle perle. Tutti lunedì sarai con noi, tutti lunedì quindi avremo queste bellissime perle spiegate, raccontate appunto da Ambrogio Curti ma poi tutti i giorni appunto alle 9.05 alla fine della nostra trasmissione dopo anche il giornale radio potete ascoltare appunto senti questa. A proposito di giornale orario? Beh, di giornale radio scusate, c'è anche alle 8 e quindi adesso diamo la linea appunto alle news, prima un po' di musica e poi la linea alle news e noi ci ritroviamo qui subito dopo per una seconda parte di Good Morning Milano. Avanti così! Beh insomma, rispondo alle vanno così avanti, sono 22 secondi di dissolvenza e uno quando entra? Cioè, vabbè, forse ufficio programmazione lo segniamo un attimo che ci sono 20 secondi di dissolvenza su sta canzone. Ben ritornati! 8 e 13 minuti, lunedì 15 gennaio, buon Blue Monday a tutti quanti, vi raccontiamo anche un po' di storie di Good Morning Milano. Questa mattina siamo al gelo, eh sì, si è bloccata la caldaia, non è partita, adesso l'hanno già aggiustata, adesso parte tutto e quindi siamo al gelo, stiamo facendo una fatica, io quando guardate le versioni dei video si vede il fumo che mi esce dalla bocca da quanto fa frescolino qua dentro questa mattina. E comunque così è, anzi stoica la nostra viola che regia con lo sciarpone per cercare di tenersi calda, quindi grazie anzi all'ottimo lavoro che sta facendo e anzi grazie all'ottimo lavoro che sta facendo tutta la redazione di Good Morning Milano. Questa settimana avremo tantissimi ospiti, ma soprattutto domani, domani facciamo una cosa un po' particolare, facciamo un test, vediamo come va, poi magari ne decideremo meglio più avanti. L'idea, l'idea di fare un Good Morning per te, Good Morning con te, anzi Good Morning con te, lo chiamiamo così, l'idea di darvi la possibilità di venire qui con noi a fare un'oretta insieme a noi qui in radio, così. Se volete, se passate da queste parti, se passate da quelle parti di San Siro, tra le 7 e le 8, lo studio volendo per voi è aperto, vi prenotate prima, poi dopo vi spiegherò tutto come si fa, vi potete prenotare con un numero di Whatsapp che potete scrivere e dire, ma guarda, io giovedì, se volete vengo lì, vediamo, poi quelli che possiamo, diciamo, vi selezioniamo e ad alcuni verrà data questa possibilità di venire qui a fare due chiacchiere, a vedere come funziona una radio, a capire, così, a fare insieme la prima ora del giorno, magari bisogna andare a lavoro, bisogna andare a studiare, magari ci prendete anche le brioche, eh Viola, chiediamo anche di portarci del cibo, va bene, anzi dice di sì, infatti, va bene, ecco, Viola ha detto che apre solo se vi presentate, perché lei decide chi entra, eh, quindi, ah, dovete farvela, farvela buona con brioche, cioccolato, lisce, crema, pistacchio, come ne vuoi? Cioccolato, cioccolato, dice, ok, benissimo, quindi, brioche e cioccolato sono l'arma per poter venire ospiti qui a farsi un'oretta con noi di radio la mattina, va bene, va bene, quindi, good morning con te con brioche al cioccolato per Viola, questo è quello che bisogna fare per poter entrare nei nostri studi, beh, domani, ad esempio, avremo Federica, che è la nostra ascoltatrice, che verrà qua a fare un'oretta di radio insieme a noi, così, magari scopriamo anche un po' di cose nuove sul nostro pubblico, mi piace come idea? Non lo so, a me piace, a me piace tanto, se voi vi piace, ditecelo, intanto potete scrivere al 3317853555 e raccontarci cosa stete facendo oggi e dirvi cosa vorrei, poi dopo vi daremo tutte le indicazioni per venire qui, per presentarvi, per poter raccontare un po' chi siete, cosa fate, dove andate, direttamente qui studio con noi, con noi appunto, con l'iniziativa Good Morning con te. Good Morning è anche tanta musica per noi, quindi partiamo, anzi andiamo avanti, scusate, partiamo questa seconda ora con Mahmood insieme a Cocktail d'Amore. Mahmood, Cocktail d'Amore, 8 e 19 minuti, Cristal Radio, Good Morning Milano. Ben ritrovati, allora, le notizie insomma sono un po' sempre quelle, o meglio, non vorrei che, diciamo, non leggi la notizia principale di oggi, no, non la leggo perché sapete come la reputo quando sono queste notizie così di tragedie, sapete cosa sto parlando, parliamo di Giovanna Pedretti, la titolare del ristorante famoso nei giorni scorsi per la recensione su TripAdvisor o su Google, Google credo fosse, in cui si diceva che delle persone avevano mangiato in un tavolo vicino a, un tavolo occupato da un omosessuale, degli omosessuali e da un disabile, poi loro hanno risposto dicendo se non fa per voi questo locale non veniteci più, in realtà sembrerebbe che questo, tutta questa cosa in realtà sia stata montata ad arte dalla titolare, sta di fatto che appunto si è stato ritrovato il cadavere proprio nella notte scorsa vicino all'Ambro, dalle parti appunto di Lodi e adesso ci stanno parlando solo di quello. Noi non ci addentriamo, non vogliamo speculare, non vogliamo parlare del tema, ne parleremo semmai più avanti quando si capirà bene cosa è successo, se è veramente suicidio, se non è qualcos'altro, le motivazioni, se è solo per quel posto, come nasce quel posto, ne parleremo a tempo debito e quindi cercando altre notizie, insomma magari anche di alto tenore, però si incappa sempre nella classica notizia dei prezzi delle case a Milano. Repubblica Milano, in titola Immobiliare, a Milano i prezzi continuano a crescere, 5.300 euro al metro quadro per comprare casa, ma cala la richiesta di affitti, ma quel ma non l'ho capito, non è mai calata, ovviamente a Milano non c'è più richiesta di affitti o meglio la richiesta c'è e come ma non viene evasa questa richiesta, questo c'è da dirsi. Nei giorni scorsi anche la consigliere comunale Francesca Cucchiara ha fatto un post sui social in cui chiede proprio, ragazzi cerco casa, qualcuno ha una casa da milano affitto o una stanza non a 800 euro al mese? Perché il problema è quello, sono le stanze, ci sono le case in affitto, ci sono le stanze in affitto, ma sono i prezzi il problema. In una città dove gli stipendi non sono ovviamente equiparabili alle spese che si hanno e quindi insomma la discrepanza è davvero alta. Se già è difficile con gli stipendi attualmente in questo paese vivere in un altro posto che non è Milano, a Milano lo è ancora di più. Sta di fatto che appunto con il reddito medio milanese, un single, scusate, un single con il reddito medio può comprare solo il 3,2% delle case disponibili su Milano. Quindi se siete single e avete un reddito nella media del reddito milanese, che ricorda molto, dovete essere alto perché il reddito medio milanese è alzato, è drogato da tutte le aziende che hanno qui la sede, quindi hanno tutti i dirigenti che fanno media, quindi ricordiamoci anche questo e soprattutto i quadri e soprattutto i top, non dico tanto i top manager che magari quelli non sono neanche calcolati, ma diciamo comunque i quadri, gli alti livelli sono comunque calcolati nella media. La media è alta, beh se voi siete nella media del reddito milanese e siete single potete comprare solo il 3% delle case, cioè su 100 case a questa disposizione sono solo 3 quelle che voi potreste comprare. Ovviamente non ho detto che per quelle le piacciono o che mandano bene la zona o che siano quello che voi cercate, quindi questo è il grosso problema di questa città, una città sempre più difficile da vivere e che rischia di vedere le persone sempre di più andare verso altri lidi. Male? Bene? Ma bene sicuramente no. Rattattattà! 8.31 minuti, Blackpink, Pink Venom qui su Crystal Radio, qui Good Morning Milano, buongiorno a tutti ancora e continuiamo la nostra mattinata insieme, ultima mezz'ora di trasmissione, Good Morning Milano del lunedì, di questo Blue Monday lunedì 15 gennaio, weekend che ero passato andando a vedere l'Olimpia a basket, che era un po' che non vedevo, devo dire un po' tanto, si chiamava ancora Phillips credo l'ultima volta, eravamo gli anni 90, più o meno, comunque no, allora, è sempre bello vedere il forum, spettacolo insomma un po' così, è rimasto con un po' di amare in bocca perché la squadra non è che proprio ha fatto grandi risultati, ha vinto di un punto sulla compagine di Tortona che si difesa molto molto bene, all'ultimo secondo praticamente Tortona ha sbagliato un'azione per cui Milano non è riuscito a rimanere in vantaggio di quel punto che basta per portarsi a casa la vittoria, si poteva fare meglio sicuramente, il risultato va bene, il risultato ce lo poteva a casa così, però si poteva fare meglio, bello l'ambiente come sempre, bello come dicevo appunto il forum da Sago, grazie anzi perché ho visto appunto dalla seconda fila, ero proprio lì quasi in campo ed è molto 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 bello ed emozionante, tanti colleghi visti, intravisti, tra le varie file del palazzetto e delle sedie appunto della parte stampa, ma anche dei VIP, delle famiglie, ci sono tanti colleghi che girano intorno al campo da basket, insomma è un bel ambiente e soprattutto con Re Giorgio sempre presente, appunto Giorgio Armani presente all'inizio, durante e dopo la partita, bello il momento in cui tutta la squadra a fine partita va a salutare Re Giorgio così a complimentarsi sempre con lui a salutarlo e lui a complimentarsi con i giocatori, quindi insomma un bel momento che io vi invito ad andare a vedere, nel senso che è molto comodo, tra parentesi è veramente comodissimo arrivare al forum, un po' come lo giocano di pomeriggio, stracomodo, uscite sono uscite alle 7 più o meno, la metropolitana è lì, si può prendere la metropolitana e tornassene tranquillamente in città senza grossi problemi, quindi insomma è davvero un bel momento, un bel ambiente e soprattutto tanti bambini e bambine ho visto, quindi tante le bambine di bambini presenti sperando appunto, sperando che si appassionino a uno sport così bello come quello del basket e magari non sempre solo a parlare di calcio, ad esempio so che ieri sera c'è stata la partita, non ho neanche idea di come sia finita, se qualcuno me lo sta a dire, 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5, come è finita la partita del Milan ieri sera? C'era Milan-Roma, giusto? Sì, ok, non so minimamente come sia finita, però tu lo sai? 3-2 per chi? Ha vinto il Milan 3-2, così dice Viola, se non stavo andando il risultato del Milan-Roma dell'84, vediamo cosa ha fatto Milan-Roma, dai vediamo cosa ha fatto Milan-Roma, no no, se scrivi, ho sbagliato, su Google ho scritto Milano-Roma, mi sei venuto fuori 3 in Italia perché mi vuole vendere un biglietto, niente, continuo a scrivere Milano-Roma, cos'è? 3-1 per il Milan? 3-1 per il Milan, sì 3-1 per il Milan, gol di, non lo so, Adi, Giraud e Hernandez per il Milan e dall'altra parte invece Paredas, Paredas, Paredas su rigore, su rigore, al 69esimo, 3-1 per il Milan. Milano ha vinto ieri, sia dal punto di vista del calcio che dal punto di vista del basket, siamo parti a casa delle vittorie, va bene, bravi, bravi milanesi, comunque va bene, insomma sapete quanto a me non piace al calcio, sapete quando a me piace invece appunto il basket, ma non vuol dire niente, nel senso guardatevi quello che volete, anzi, siate liberi di tifare la squadra che volete, dello sport che volete, grande vita anche al curling che sappiamo essere, anzi, adesso fa un po' arrivano le Olimpiadi Invernali, fra due anni, quindi attenzione, tutti pronti a guardare il curling, l'importante è non dividere mai semplicemente il mondo tra buoni e cattivi, ma capire anche tutte le sfumature che ci sono, perché abbiamo dato di buoni cattivi, perché adesso arriva lui, il Blasco, appunto, con buoni o cattivi. Buoni o cattivi, Vasco Rossi, Crystal Radio, good morning Milano, Milano città insicura per molti, insomma lo sapete, questa tiritera va avanti da un po', adesso poi ci sono anche i tornelli a San Donato dove nessuno può passare, se non paga il biglietto invece si basso uguale, mi hanno fatto vedere che a questo punto in due si può passare tranquillamente, comunque, ecco perché è una città, è arrivato anche Cipollino a dire la sua, chi è Cipollino? Ma lui, Massimo Boldi, è arrivato a dire la sua anche lui sull'insicurezza o sulla sicurezza, no, sull'insicurezza di questa città, in un'intervista a TGcom24 dice, Milano città insicura, io me ne sono andato, ce ne faremo una ragione, ma soprattutto la cosa che mi fa ridere è il sotto, c'è un problema in questo titolo, io me ne sono andato, sotto dice, la situazione è peggiorata rispetto al passato, io torno a casa e mi chiudo in cassaforte, allora no, aspetta, se sei andato via e ti chiudi in cassaforte, il problema non è che Milano è insicuro, è il posto dove sei andato che è insicuro, e allora vado a leggere l'articolo, e effettivamente dice, rivela di essersene andato in una città satellite intorno a Milano, è capito, ma il problema allora è quella città satellite di cui non facciamo il nome, anzi non c'è neanche scritto per fortuna, però via da Milano, io sono andato via, vivo fuori città, arrivato a casa sono praticamente chiuso in una cassaforte con telecamere e sistemi di sicurezza della vigilanza privata, e per fortuna da tanti anni la situazione dove vivo io è tranquilla, allora non ho capito, cioè se dove vivi tu è tranquilla ma ti chiudi dentro con delle telecamere e tutto, insomma come sempre c'è un po' di confusione sul tema, e questa è la verità, allora Milano è la città migliore del mondo, più sicura del mondo? No, sicuramente, Milano è la Caracas del nord Italia? No, sicuramente, ecco, come sempre la verità, o meglio, la verità sta nel mezzo, quindi anche in più, la verità sta nelle situazioni, quindi sta nel percepito, sta in cosa vogliamo da una città, in cosa pretendiamo, da una metropoli come Milano, metropoli forse, come dicevano spesso anche il nostro amico Simone Lunghi, la più piccola metropoli d'Europa, ma pur sempre una metropoli con quartieri difficili, con quartieri complicati, con situazioni complicate, anche in quartieri che non sembrano complicati, quindi insomma non è neanche facile quello, perché è facile dire sempre, ah il problema sta in quel quartiere, ah il problema sta in quel quadrilatero lì, ma a volte il problema non sta, non solo in quei quadrilateri, si espandono, escono, e a volte anzi, proprio in quei quadrilateri si trovano invece le risposte, si trovano le eccellenze, si ritrovano le capacità della popolazione stessa, dei cittadini stessi, a reagire e a rendere migliore lo spazio, il metro quadrato che ognuno di noi vive all'interno di una città come quella di Milano. Quello che mi lascia un po' stare fatto di questi articoli è che veramente chiunque può dire la sua sul tema sicurezza, perché adesso Massimo Boldi, adoro, lo adoro, mi piace tantissimo, cioè mi sono fatto delle risate, le più grandi risate della mia vita con Massimo Boldi, ma non mi interessa sapere cosa ne pensi della sicurezza, il concetto è quello, non capisco perché andare a chiedere a Massimo Boldi cosa pensa della sicurezza a Milano, oltretutto se poi nell'intervista diciamo, me ne sono andato, ma dove vivo non mi sento sicuro, allora c'è qualcosa che non quadra, forse siamo noi tutti a sentirci un po' meno sicuri, anche a volte e spesso giustamente, ma a volte anche invece in una maniera ingiustificata dovuta magari al raccontare un certo tipo di città o enfatizzare certe problematiche al di là della normale cronaca che andrebbe fatta in una città come quella appunto di Milano. Andiamo avanti con la musica, adesso è il momento di Will con Stupido. Will con Stupido, prima di salutarci ancora una notizia che prendiamo da Repubblica Milano perché è una brutta notizia, nel senso che è una notizia di tagli perché la Lombardia perde il fondo di 4 milioni di euro per la lotta all'anoressia, bulimia e gli altri disturbi alimentari. Le famiglie sono rivolte per i tagli voluti dal governo centrale, sono tagli nazionali e quindi di conseguenza la Lombardia perde 4 milioni. A venire meno sono oltre 4 milioni di euro e le famiglie sono sul piede di guerra perché i servizi pubblici già erano pochi e adesso rischiano di essere ancora meno. Siamo abbandonati, così dicono appunto le famiglie di coloro che venivano assistiti dal sistema sanitario nazionale. È allarme quindi per il taglio dei fondi nazionali destinati ai servizi per i pazienti con DCA, i disturbi del comportamento alimentare, quando appunto l'anoressia, bulimia e binge eating, scusate, mangiare compulsivo diciamo, trangiamolo in italiano. È un problema, un problema molto grande, un problema molto grosso che vede sempre di più aumentare il numero di persone affette appunto da disturbi del comportamento alimentare e un po' però posso dirvi una cosa, adesso la dico provocatoriamente, ci sta bene, ci sta bene perché questo è quello che succede quando incominciamo a non andare a votare, quando incominciamo a essere distratti e non perché ci distraggono chissà chi, ma perché ci facciamo noi delle fisime mentali, ci facciamo su dei castelli in aria credendo a complotti, credendo a scie chimiche e compagnia accantante, quando incominciamo a vedere il marcio ovunque e poi non vediamo quando invece il marcio esiste davvero, insomma sono tante le situazioni in cui facciamo di tutto per dire eh sveglia, attenzione, sveglia, condividete gente, condividete e poi dopo quando succedono le cose reali e questi sono problemi, ad esempio 4 milioni di euro che vanno meno nella sanità pubblica solo per la lotta ai disturbi del comportamento alimentare, ecco questo e poi invece no, ma tanto che me frega, io ce l'ho, no c'è da qualcun altro, vabbè problemi suoi, ecco sempre poi così, è invece questo che dovete fare ogni volta che pensate di sono tutti uguali, che pensate del chissà cosa c'è dentro, del pensate è vero l'ho letto su Facebook, ecco magari un po' meno quella roba lì e un po' di più magari andando a prendere i giornali che sappiamo benissimo quanti limiti hanno, quante schifezze spesso le interi propongono e tutto, però insomma c'è sempre una linea di base su cui il giornale dà le notizie, le va a verificare, poi sappiamo, ripeto, quante bufale, quante stupidaggini vengono anche scritte, ma quando magari si può leggere tra le righe un po' quello che succede e, attenzione, lo dico adesso, ma l'avrei detto anche con un altro governo, l'avrei detto anche con un'altra giunta regionale, perché questi tagli adesso sono 4 milioni, ma credo che se li prendiamo dal 91-92 in avanti sono migliaia di milioni tagliati da ogni governo, da ogni amministrazione, da ogni situazione, forse anche perché bisogna ricapire e rivedere il tutto, io non ho la risposta, voi mi auguro che non l'abbiate neanche voi, perché non è il vostro e il mio compito, ma è il compito di una classe dirigente che a questo paese manca, ecco basta, finisco e chiudo qua il pippone, Viola devo darti una sirena perché così quando inizio a fare i pipponi la suoni e la smetto, quando inizio a fare i pipponi la suoni e la smetto, quando comincio a fare le paternali ti do un pulsantone, un buzzer, così quando inizio a fare tu basta Fabio, ritorna sul seminato, ci ritorno e ci ritorno e come sul seminato, perché adesso vi faccio tutti alzare dalla sedia da dove siete, vi faccio ballare in macchina, vi faccio sculettare sulle vostre auto se state guidando, però mi raccomando fermatevi che è pericoloso, ma se state invece camminando, vi immagino lì in Porta Venezia che state camminando lentamente nel lungo cammino che va da una linea all'altra, quella che sale su, che va su, no? Che va su, su, su dove sono i tornelli, oppure nei lunghi sottopassaggi delle varie metropolitane, beh, sta arrivando la musica con cui dovete iniziare a muoverle anche, a camminare come se fosse il ballo della vostra vita, adesso qui in diretta su Crystal Radio, qui a Gumoni Milano, mi raccomando con Michael Jackson e Bidit!